Ciao a tutti e grazie a Brancaleone per questa bella cosa, per quella bella ospitalità. Io leggo da due cose edite, che sono una delle osservazioni uscite da Blanc da poco, e un altro, un libretto invece di prose, che si intitola La gente non sa cosa si perde, che è uscito per l'edizione TIC. Comincio con delle osservazioni. Queste sono poesie, poesie. Poi affrontiamo le prose. Il luogo della scatola celeste del cranio, che presiede all'equilibrio, si chiama labirinto, che intorno si organizzano le cose come stanno. Poi l'ultimo è stato cruciale, l'ultimo compratore fa, per chiarire, sapere la prima volta in mezzo secolo di teatro, quali fossero i confini della casa, effettivi, della proprietà, tenuta, lasciandola, si è potuta vedere, intera, altrui. Esattezza, poi testarda, senza oggetti, nei colori solo millimetrati, i detriti, il tetro puro dei dati. Questo testo è dedicato a Carlo Bordini, a una poesia di Carlo Bordini, che chi conosce forse riconoscerà, che si intitola Corteo. Questa poesia si intitola Riscatti a Carlo. Pezzi di primi documenti vagano e valgono in altri, successivi, seminativi. Hanno la coda viva quando è morta la testa, da un pezzo proprio non censito, mancante dalle altre carte, che le serpi ci si girano di scatto tu non ritrai l'ombra in tempo. E l'ultimo testo di questa raccolta dice così L'ultima colonna in fondo, nel quadro, svela una piccola riga di donna che sporta nel bordo buio una L di fiaccola, illumina l'uscita per lo sguardo. È la contemplazione che si nega, dice la guida dotta, che è identica a chi vede perché passa, ma diversa perché è persuasa e spiega. Rimasta indietro, sua figlia non si è persa, è albina e condannata a ridere rapida. Chiaro, dimentica. Queste invece sono prose. Il titolo appunto è La gente non sa cosa si perde. Demo Sono bravi, piantano gli alberi, fanno una o le cassette di legno. C'è tutto un perimetro di legno contenitore che loro fanno a cassetta come barriera una o specie di recinto mettono dentro al recinto la terra contenuto poi mettono dentro che scavano quando hanno scavato mettono dentro di qualcosa il come un prima dell'albero, un come fosse un albero c'è un albero, mettono dentro l'albero e hanno piantato un albero i suoi, il, è esso, è il il grande albero della democrazia esso è il grande albero della democrazia questo albero, Della produce frutti molto buoni ma bisogna con grande attenzione questo albero produce frutti molto ma bisogna con grande attenzione rispettare i semi, anche i semi sono molto e grande attenzione alcuni li assaggiano, alcuni se ne cibano quanti più alberi si piantano, tanto più si cresce la democrazia c'è tutta una foresta iniziano a parlarsi al telefono non sono più tanto però comunque in campagna più tardi gli alberi e tutta la popolazione a tutta può essere felice perché tranne pochi tutti quanti possono votare come sceglie la cosa migliore e si scelgono e sa sceglie spesso il motivo per cui le cose in una città procedono pulitamente e speditamente è perché in queste persone alberga una saggezza e tutte le persone decidono secondo questa le cose vanno limpidamente speditamente veloci va tutto, sono i riti, piantano alberi anche non della democrazia piantano quanti altri alberi, alcuni sono alberi alcuni sono alberi parassiti come per esempio la Robinia a fama pessima racconta sia una pianta parassitante in effetti se ne trovano tristi che stupenda cosa e piantare gli alberi, piantare la democrazia con poco sforzo puoi avere i si tratta di aspettare ho scritto un romanzo di grande moralità un libro di forza e profezia in cui ho raccolto tutti i frammenti di forza e profezia che la moralità mi poteva dare con tanta moralità e profezia ho avuto la possibilità di pubblicare tanta forza così come ci vuole tanta forza per essere morali e profetici di cosa si è parlato in questi anni recenti? si è parlato di tenuta delle connessioni di idraulica, di avvitamenti, di chiodi e bene come potete vedere bene qui io ho fatto tutte le connessioni i tubi tengono e l'acqua passa insieme al libro vi viene fornito un cacciavite per cui avvitarvi e avvitare quanto volete il martello ve lo do io poi tanto due brave persone loro sono venuti qui nel 2000 lui lavora, fa i turni lei ha trovato posto in ospedale lui e un figlio hanno fatto il matrimonio dopo poi si sono visti insieme lei lavora un'autorimessa poi si sono separati ma con l'affetto ma segue le gemelle non puoi capire lui è disoccupato prima però impegna nel sociale ci sono delle ditte che fanno la sostituzione delle trappole lei ha trovato posto nella sostituzione hanno un bananeto in comune si fanno le loro lattine con le conserve tirano avanti sono venuti qui nel 2007 nel 2008 sono ripartiti ma nel 2009 sono tornati nel 2010 sono ripartiti nel 2011 e quelli che comprano casa stanno sull'ultimo piano loro è solo un figlio è un figlio unico ha dei problemi psicologici loro sono molto coraggiosi lui è morto sono rimasti i figli sono molto forti lei lavora nella pubblicità lui è un professore universitario non si sa lei insegna diritto amministrativo lui ripara i cellulari a domicilio sono affiatati hanno una pasticceria una rosticceria hanno delle monete hanno fatto degli investimenti nelle monete sono andati male lui è dentista lei è dentista ha perso il lavoro è scappato con la cassa ha scollato l'insegna lo studio dentistico ha chiuso ha perso il lavoro lei fa l'avvocato penalista sono venuti qui nel 2011 nel 2003 già abitava qui la madre di lei o nel 2002 ma la suocera del cugino era borsista in un posto francese dove ci sono molti fenicotteri studiava i fenicotteri con lo studio non si mangia un po' come comprare hanno comprato un bananeto da quelli che c'erano prima non ci tirano avanti neanche così sono venuti con una maglieria hanno messo su un negozio di ortopedia e maglieria vendono l'olio fatto nella rimessa vendono anche asciugamani stanno qui su Donna Olimpia una famiglia per bene sono molto religiosi anche se non sempre vanno d'accordo si sentono delle fortissime furibonde a volte penso si ammazzano lui a un bar magari meno frequente vende delle assicurazioni mentre lei fa i turni costruiscono dei cucchiai di legno lui è rasta sono venuti nel 2001 si occupano di artigianato fanno la grappa in casa il pane in casa gli piace la birra artigianale fanno dei lavori artigianali con i cucchiai di legno sono molto portati per il disegno artigianale hanno una cartoleria nel 2005 hanno messo su una tabaccheria di ricerca in essa si vendeva qualcosa di unico hanno aperto i negozi di sigaretti una catena ci sono drogati per via hanno fatto la spunta hanno perso al gioco hanno vinto al seguente la loro vita è cambiata completamente hanno divorziato o era solo una separazione stava su con le mollette sapeva stirare ma si rifiutava dall'altra parte del cortile usciva pazzo ma si sono rimessi insieme c'è tutto un roseto che hanno costruito in Puglia c'è anche un nome per indicarlo ne parlano in una tv locale che hanno cambiato macchina cambiano macchina ogni anno hanno sempre la stessa macchina e tutta la vita che fanno su e giù tanti sacrifici sono pendolari non vivono a Roma a Roma stanno in centro però in centro si vive malissimo c'è molto smog molto rumore e locali che erano rumorosi già allora hanno comprato un attico e ci hanno piantato un banano e chiudo con due inediti dal libro appunto inedito oggettistica il tenente soffre perché tiene l'utente quando usa usa dire così in società si batte moneta vicendevolmente incolpandosi che ci stanno a fare i poveri a che serve la geografia fidarsi mi fido delle persone sbaglio non dovrei fanno delle cose orribili sono talvolta orribili non mi fido non dovrei almeno ma mi fido delle etichette quello che c'è scritto il contenuto gli ingredienti le percentuali vi si nota uno scrupolo e si leggono dei numeri conta ci si può fidare le etichette non sono persone mi fido non mi fido dei politici non ci sono i contenuti non ci sono i numeri se non ci sono i numeri si rimane di stucco uno si gira resta di stucco non ci si dovrebbe fidare non fidarsi dei politici è qualunquismo anche fidarsi è qualunquismo non mi fido dei qualunquisti fanno delle cose orribili non sai mi fido della metropolitana i cartelli dicono dove stai andando dove sei sbagliano sul futuro ma non sempre è sempre in senso temporale non spaziale che vadano in alcuni luoghi e non in altri è certo tutto il resto no non c'è da fidarsi meglio non dare appuntamenti anche perché non c'è da fidarsi delle persone come fai a dare appuntamento se non ti fidi dei dottori ci si può fidare perché hanno la segretaria finché hanno la segretaria così l'appuntamento salta e loro ti avvisano la segretaria ti telefona per tempo si scusa ha tutta una cerimonia per queste cose è cerimoniosa poi se l'appuntamento invece è confermato e tu vai in visita allora no cambia tutto una volta che entri devi smettere di fidarti dei medici dai medici può succedere di tutto con o senza barzelletta intorno è pieno di barzellette intorno su di loro ce n'è un migliaio tuttavia c'è poco da ridere se il medico sbaglia tutto e tu peggiori lui non ti telefona non ti fa nemmeno telefonare da altri si scorda sembra anche della memoria non c'è da fidarsi non solo quella dei medici è fallibilissima ma i malati pure i pazienti dimenticano a questo serve la malattia come promemoria a meno che non si trasformi in morte perché allora non serve più non serve più a niente e non serve più niente non manca niente uno ha tutto quello che gli serve niente poi pensano a tutti gli altri fanno loro le telefonate continuano i discorsi i loro e i tuoi ti mettono le parole in bocca ti legano la testa ti abbandoni ti fidi quando uno è morto si lascia trasportare gli altri pensano ai vari giri si prendono le incombenze ma non c'è da fidarsi di loro lo dicevo nemmeno della morte allora non c'è da fidarsi della morte grazie